Si tenta la via diplomatica in Medio Oriente. Israele accetta la proposta di tregua avanzata dall'Egitto, finalizzata all'avvio di negoziati con i palestinesi. Sì, anche dal presidente della NP Abu Mazen, ma Hamas rifiuta e non ferma il lancio di razzi. 194 le vittime palestinesi dall'inizio dei raid israeliani su Gaza. Duri scontri fra opposte fazioni all'aeroporto di Tripoli. In Libia, il paese sempre più nel caos, almeno 15 le persone uccise da domenica in combattimenti. A Benghazi, le forze irregolari del generale disertore Khalifa Haftar hanno bombardato le basi degli islamisti, mentre le forze speciali si sono scontrate con i miliziani all'interno della città. Cinque morti, oltre 100 feriti, il bilancio ancora provvisorio dell'incidente di questa mattina nella metropolitana di Mosca. Tre vagoni di un treno sono deragliati per una brusca frenata a causa di un calo di tensione. Alcuni passeggeri sarebbero ancora intrappolati. Seconda giornata di operazioni all'isola del Giglio per il rigalleggiamento della costa Concordia. Ieri il relitto è stato sollevato di due metri dal fondale e spostato di 30 metri. Lunedì prossimo è probabile inizio del traghettamento della nave verso il porto di Genova, dove sarà rottamata. Il tavolo tra l'Italia e sindacati confederali al Ministero dei Trasporti sul contratto collettivo sul taglio dei costi del lavoro si è concluso alle 7 di stamane dopo una maratona iniziata ieri a mezzogiorno. L'appuntamento è ora per le 17 e per la stesura finale. La firma dell'accordo è attesa in serata. Manca ancora la sigla della CGL sul piano di esuberi. La Germania abbraccia i suoi eroi del Maracanà. La nazionale tedesca neocampione del mondo è atterrata a Berlino. Prevista la passerella con la Coppa alla porta di Brandeburgo ad attendere la squadra a 250.000 persone.